Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore e si mise a insegnare loro molte cose. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, gli apostoli sono di ritorno dalla loro missione. Il Signore li aveva inviati a due a due a cacciare i demoni, a curare gli ammalati e a predicare il Vangelo che il regno di Dio è vicino. E essi ritornano e subito si riuniscono come pulcini intorno a Gesù, riferendogli tutto quello che avevano fatto. Abbiamo cacciato demoni, abbiamo curato gli ammalati nel tuo nome, abbiamo annunciato, abbiamo visto dei segni incredibili. Dopo l'attività apostolica Gesù che cosa dice loro? Non dice bravi, non gli fa complimenti, non li lusinga, non solletica il loro orgoglio, no? Dice loro venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi. E riposatevi. Il riposo. Il Signore gli dice riposatevi. E come devono riposare? Nell'ozio? Stendono lì una maca e si mettono con un bel cocktail? No. In un luogo deserto, intorno a Gesù, insieme a Gesù. Insieme a Gesù. Questo è quanto mai opportuno comprenderlo proprio in tempi estivi come questi di vacanza, dove molta gente e molti cristiani va a cercare vacanza da tutto, anche da Gesù. Tanti smettono di andare semplicemente in chiesa, smettono di andare a messa. Vado in vacanza, faccio la vacanza e per dieci, quindici giorni, in un luogo di divertimento, località balneari, feste, drink, giochi con gli amici e non c'è spazio per Gesù. Invece qui Gesù dice proprio venite in disparte, li porta con sé, si raccolgono intorno a sé. La vacanza, cari fratelli e sorelle, è qualcosa che ristora il corpo ma deve rigenerare soprattutto lo spirito che è la vita del corpo e lo spirito si rigenera solo alla fonte della grazia che è Gesù. Lontano da Gesù non c'è riposo alcuno che possa veramente ritemprare l'anima nostra e il corpo con l'anima. Venite in disparte. Perché? Perché erano in un'attività incredibile. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Il figlio dell'uomo, dice il Signore, non ha dove posare il capo. Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove poggiare il capo, non ha neanche il tempo di mangiare. E allora li prende, li porta in un luogo in disparte insieme a lui, però il popolo lo viene a sapere. E lì precedono, cioè arrivano prima quelli che cercano Gesù. Pensate che fame di Gesù che c'è, che fame di verità, che bisogno del Signore. Fanno a gara e corrono lì dove sta per arrivare il Signore. E Gesù che fa? Li vede e dice no adesso mi devo riposare, andate tutti alle vostre case. No, non aveva di che mangiare, non aveva mangiato, non aveva dormito. Eppure quando li vede ebbe compassione di loro, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore senza pastore. La carità, l'amore del Signore che non è venuto qui per farsi servire, ma per essere servito. Ed è questa la logica, cari fratelli e sorelle di ogni ministero nella Chiesa del Signore. Il ministero, l'ufficio, è un ufficio di servizio. Chi viene in Chiesa a partire dai pastori, ma spesso anche i fedeli, che dicono ai pastori quello che devono fare o quello che non devono fare. Tutti siamo bravi a comandare, tutti, tutti. Ma dimentichiamo che il regno dei Cieli è di chi si fa piccolo. Chi vuole essere il primo tra di voi, dice il Signore, si farà ultimo e servo di tutti, e servo di tutti. E invece spesso anche nelle nostre Chiese c'è questa competizione, questa rivalità, questo voler primeggiare. quello ha fatto questo, allora io devo fare quest'altro, a quello è stato dato questo incarico, e allora io, e allora io. Questo io maledetto che esce sempre fuori, cari fratelli e sorelle, e ci fa dimenticare la vera essenza della nostra vita cristiana e della santità a cui dobbiamo anelare. La santità che cos'è? È amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le nostre forze. È un attaccamento al Signore con un distacco da noi stessi. In verità vi dico, chi non perde la sua vita per causa mia non la trova, ma chi la perde la trova. Distacco da io e attaccamento a Dio. L'essenza della santità è nel fare la volontà di Dio, nel fare tutto quello che Dio vuole, quando Dio lo vuole e come Dio lo vuole. E però noi tutti, dico noi tutti, a cominciare da io che sono un pastore, da noi pastori, che dovremmo essere servi, primi servi, perché questo, la logica del servizio, la logica del ministero nella Chiesa è il servizio. Siamo qui per servire, perché se Dio, che si fa uomo, dice sono venuto per servire, non per essere servito, ma che bella faccia tosta che ho io, che voglio primeggiare e farmi servire e dire a Tizio che deve fare questo, a Caio che deve fare quest'altro. Ci sono dei ruoli in cui dobbiamo prendere certe decisioni? Ci sono, è vero, ma spesso, spesso, anche quando non li abbiamo quei ruoli, le prendiamo tutte noi le decisioni. No? Diciamo al Signore sia fatta la tua volontà nel Padre nostro, però in realtà intendiamo la tua volontà che ti dico io qual è la tua volontà. Siamo noi a dire al Signore, a insegnare al Signore come fare Dio, a proiettare su di Lui la nostra volontà miserabile per dirgli come dovrebbe andare il mondo o come dovrebbe andare la Chiesa, dimenticando che è sua la creazione ed è sua la Chiesa. Siamo sempre lì a lamentarci ora di quel pastore, ora di quell'altro, ma di chi è la Chiesa? È del Signore. E a quei pastori che invece di pascere il gregge lo disperdono e lo dividono, il Signore ha delle parole di fuoco. Vi punirò, li punirà, li punirà. E allora smettiamo di preoccuparci di quello che fa quel pastore o quell'altro pastore, quel fedele o quella fedele. Sono affari loro dinanzi al Signore, perché fra poco il giudizio arriva per tutti. Iniziamo piuttosto a preoccuparci ciascuno per se stesso, ciascuno per se stesso, affinché davvero viviamo quell'abbandono, quell'amore al Signore, quella vicinanza a Gesù. E per trovarla, questo rapporto personale col Signore che dobbiamo zelare sopra ogni altra cosa, sopra ogni altra cosa, perché prima di portarlo alle genti il Signore lo dobbiamo far regnare dentro il nostro cuore, dentro il cuore di ciascuno di noi, perché altrimenti non saremo né pastori, né testimoni, né nulla del Signore. riposiamoci accanto a Lui, ritiriamoci accanto a Lui. Ecco, fare silenzio, stare in chiesa in silenzio, farci vicini a Lui, al Signore, al Signore che si è fatto pane. Fratelli, in Cristo voi che un tempo eravate lontani siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. Lui è la nostra pace, lui che di due ha fatto una cosa sola abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne, l'Eucaristia, il corpo di Cristo, la presenza reale di Dio in mezzo a noi e non solo in mezzo a noi, perché fra poco ritornerà qui presente su questo altare, ma dentro di noi. Si chiama comunione, perché in Cristo, con Cristo e per Cristo, noi siamo uno, dovremmo essere uno, perché vive dentro di noi, ma se io non faccio vivere Lui dentro di me e invece di nutrire Dio di me, nutro il mio io, mi separo semplicemente da Lui e non posso godere di quella pace che Egli ha promesso. Lui la dà infallibilmente la pace, ecco, è venuto ad annunziare la pace, la pace. La pace è una condizione interna. Come facciamo a stare in pace se siamo invidiosi, se stiamo lì gelosi a vedere quello che ci manca o quello che ha quello lì o quello che ha quella là? Come fai a stare in pace? È impossibile. C'è la guerra dentro di te e spesso la porti anche al di fuori di te. Perché chi sta attento solo agli altri e non a se stesso, a ciò che manca, a ciò che gli manca, a ciò che hanno gli altri, inevitabilmente porterà la divisione nella comunità cristiana, la chiacchiera, la fazione. E il divisore sapete chi è? Colui che divide, colui che separa? In greco si dice diaballo, separare. Io separo, diaballo. Il diavolo è colui che separa. E quando ci separiamo da Cristo e alimentiamo il nostro io, il nostro ego, separiamo, mettiamo principi di separazione. Allora, cari fratelli e sorelle, facciamoci vicini a Gesù, riposiamoci sul suo cuore, sul suo cuore. E se non avete, io parlo di me, un pastore appunto che vi possa dare il buon esempio o che vi addirittura arriva a scandalizzarvi, non vi preoccupate, pregate per lui perché non siete di padre Francesco. Non siete miei, non siete miei, non siete di nessun prete sulla faccia della terra, siete di Cristo, siete di Cristo. E tutti noi, pastori, fedeli, tutti, dobbiamo servire Cristo, dobbiamo andare a Gesù, dobbiamo guardare Gesù, perché è Lui il buon pastore, è Lui il pastore di Israele che ci farà tornare ai nostri pascoli, che ci farà essere fecondi, che ci farà moltiplicare. È Lui il nostro pastore e su pascoli erbosi ci fa riposare, ad acque tranquille ci conduce e rinfranca l'anima nostra, se glielo permettiamo, se glielo permettiamo. Allora, cari fratelli e sorelle, Lui è il vero pastore, il Suo è il mondo, Suo è la Chiesa, Suoi sono i pastori, tanto quelli degni, tanto quanto quelli indegni, tanto quelli buoni quanto quelli meno buoni. Tutti siamo strumenti Suoi. Anche io, che sono un cattivo pastore, posso essere principio di santificazione per quelli che mi stanno accanto. Posso diventare strumento anche essendo il Signore si può servire pure di me. Si serve di chiunque, si serve di chiunque, così come si può servire di ciascuno di noi, di ciascuno di voi. Lì dove vi ammessi, basta poco, basta rinunciare a se stessi, vivere l'umiltà, riposare sul cuore di Gesù, permettere al Signore di agire nella vita nostra, mettendo da parte quell'io maledetto, che è come un despota, uccide la presenza di Dio nell'anima nostra e facendo regnare Gesù. Però per farlo ci dobbiamo avvicinare a Lui, dobbiamo pregare Lui, ci dobbiamo riposare con Lui. Allora, così facendo davvero, sarà la nostra pace, una pace indefettibile che il mondo non ci può togliere e che il mondo non conosce. Quella pace di cui hanno goduto i santi martiri di tutti i tempi, quella pace che anche se camminiamo per valle oscura non ci fa temere alcun male. Perché? Perché Egli è con noi e se Dio sarà con noi, fratelli, sorelle, chi potrà mai farci del male? Chi potrà mai toglierci qualcosa? Se Dio è con noi, chi mai sarà contro di noi? Siano lodati Gesù e Maria.